Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Pagini Aperte Web. Iniziamo la puntata di oggi con un libro che apre per noi il giubileo straordinario della misericordia. Il titolo di questo libro è Celebrare la misericordia ed è il primo di una collana di otto volumi edita dalle edizioni San Paolo che affrontano gli aspetti biblici, liturgici e spirituali della misericordia, tema centrale dell'anno santo. Il titolo della collana è Misericordiosi come il padre e riprende il moto del giubileo. La pubblicazione e la diffusione, come vi ho detto, è affidata alle edizioni San Paolo e oltre che in tutte le librerie la diffusione dei libri è associata alle riviste Famiglia Cristiana e Credere, che è la rivista ufficiale del giubileo della misericordia. Celebrare la misericordia, come vi ho detto, è il primo di otto volumi della collana. È un volume che non è diretto solo ai pellegrini che sono diretti a Roma, ma anzi tutto il contrario. Un libro che è diretto a tutti i fedeli perché ci permette di approfondire tutti i temi associati alla misericordia. Un libro che si intitola Celebrare la misericordia. Ma cosa vuol dire celebrare la misericordia? Questo è ciò che il libro ci permette di comprendere soprattutto con il cuore. Un libro diretto al cuore di tutti i fedeli. Un libro che è un sussidio liturgico, ma soprattutto un sussidio spirituale. Un sussidio che si dirige soprattutto ai fedeli all'interno delle comunità liturgiche e delle comunità parrucchiali. Un libro che si divide in quattro parti. Una prima parte dedicata ai tempi forti all'interno dell'anno liturgico, come vi ho detto, perché tutti noi abbiamo bisogno di contemplare il mistero della misericordia. Questo ci ha detto il Papa. Un tempo, la misericordia che è fonte di gioia, serenità e pace ed è condizione della nostra salvezza. Questo ci ha detto il Santo Padre all'interno della misericordia e vultus. Ecco, questo ci ha detto il Papa perché non poteva trovare espressioni più efficaci per farci comprendere quanto è grande il valore della misericordia all'interno della nostra vita, della nostra vita di fede all'interno della Chiesa che è comunità, all'interno della Chiesa di cui tutti noi dobbiamo sentirci parte e parte forte soprattutto, di cui dobbiamo sentirci membri. Ecco perché dobbiamo sentirci noi prima di tutto forti di celebrare la misericordia dentro di noi. Quindi una prima parte è dedicata al sentirci noi membri che celebrano la misericordia all'interno dei tempi forti della Chiesa dell'anno liturgico. Una seconda parte invece dedicata al sentirci forti nel celebrare la misericordia all'interno dei sette sacramenti. Una terza parte invece è dedicata al sentirci forti nel celebrare la misericordia all'interno delle preghiere. Ecco come infatti il libro ci permette di capire come il tema della misericordia sia presente all'interno di ogni preghiera, dal rosario fino alla via crucis fino ad arrivare all'adorazione eucaristica. mentre l'ultima parte è dedicata all'analisi della preghiera scritta appositamente da Papa Francesco per il tempo forte e l'anno della misericordia. Nell'ultima parte sempre del libro troviamo nello specifico i riti che sono stati scritti per l'apertura e la chiusura della porta santa all'interno delle chiese particolari perché infatti all'interno dell'anno giubilare della misericordia non ci siamo limitati all'apertura della porta santa a Roma come abbiamo visto ma all'apertura delle porte sante all'interno delle chiese particolari. Quindi vi ricordo il titolo di questo libro che è Celebrare la misericordia edito dalle edizioni San Paolo di cui un elemento particolare è che troviamo anche l'edizione ebook sul sito sanpaolebook.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!